L'attacco è contro la presenza vera di persone che possono aiutare nei momenti difficili, nei momenti in cui la salute non c'è, quindi è un boomerang che si sono lanciati contro di loro. Siamo vicini ad individuare i responsabili, così Simona Dei, direttore sanitario della ASL Toscana Sud-Est, torna sul caso dell'attacco hacker Novax alla pagina Facebook dell'azienda. La Polizia Postale sta lavorando in tal senso e ci dicono che sono vicini, poi come sempre sono vicini a individuare dei nomi che adesso vanno decodificati, però credo che queste persone sono talmente sicure di sé e sono talmente sprovvedute che sicuramente hanno fatto dei passi falsi e che saranno identificabili. Il messaggio dell'azienda, oltre ovviamente a denunciare quanto era accaduto, è stato la campagna vaccinale proseguirà con, se possibile, ancora maggior forza. Ma secondo me questo loro tentativo di fermarci dimostra ancora di più quanto è importante che il lavoro che facciamo. Nel momento in cui si rivolgono a noi vuol dire che vedono quello che facciamo, vuol dire che ne vedono l'importanza, che capiscono che stanno perdendo terreno con le minacce, con la demagogia, con le cose false, assurde e stanno tirando fuori delle armi assolutamente improponibili. I cittadini conoscono la nostra pagina, sanno che su quella pagina raccontiamo storie vere, raccontiamo storie di vita e facciamo vedere loro quali sono le opportunità in cui la ASL è vicino a loro nei momenti difficili. Da chi è stato davvero in prima linea, da chi ha avuto anche il Covid, che cosa si prova a vedere tutto questo? Beh, insomma, vedere questa roba qua fa assolutamente rabbia, però dall'altra parte ci dà ancora la forza di andare avanti, perché quando la gente butta tutto in cacciara, butta tutto nella violenza, nelle offese, ci dà sempre più ragione, più forza delle nostre idee. Le nostre idee sono semplicissime, volete vincere questo Covid, vaccinatevi, non ci sono alternative, lo dicono i fatti, la nostra terapia intensiva c'è appena due pazienti, in pandemia effettiva non si arriva a 16, mi sembra. Per cui i numeri sono questi, quindi la pandemia la vinciamo se ci vacciniamo tutti. I bischeri, si dice a casa mia, ci sono tanti, per cui non possiamo stare dietro da gente che solamente senza una base scientifica, senza una base culturale, vanno a minacciare le persone che si sono vaccinate o che fanno in modo tale che gli altri si vaccinano. E a questo è una cosa veramente dispiace parecchio e dà il livello di bassezza di questa parte dell'Italia.